Oggi è il giorno del Lodo Alfano, approda alla Camera il disegno di legge per l'immunità alle alte cariche dello Stato, testo che prima della pausa estiva sarà successivamente approvato dal Senato. Il Quirinale non avrebbe problemi a siglare quanto uscirà dalle Camere, poiché la formulazione è quella già sottoposta al vaglio di Giorgio Napolitano a fine giugno. PD e Italia dei Valori ribadiscono il loro no, mentre l'Udc si asterrà scegliendo quello che ha definito il male minore. Intanto il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito fa sapere che domani il governo presenterà un emendamento al decreto sicurezza che dovrebbe riguardare la norma blocca processi sul fronte politico da registrare quella che ha i connotati di una rottura tra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, dopo le affermazioni di Grillo e della Guzzanti a Piazza Navona sul Papa e sul Capo dello Stato. C'è l'indignazione di tutto il mondo politico, i presidenti di Senato e Camera dicono che la libertà di manifestare non può trasformarsi in oltraggio volgare. La maggioranza parla di parole squallide che vanno oltre la decenza, Veltroni lancia un ultimatum a Di Pietro, o con noi o con la piazza. Nessuno pensi di intimidirci, replica l'ex magistrato, sto con la piazza e non mi dissocio. Dal Giappone è intervenuto anche Silvio Berlusconi. Ecco il commento del Premier a quanto accaduto alla manifestazione organizzata da Di Pietro. Della spazzatura mi occupo a Napoli.